niente panico un podcast galattico per umani curiosi oggi parliamo della plastica bentornati nel nostro podcast niente panico oggi parleremo di plastica ce ne parlerà il nostro chimico preferito lorenzo ciao marghe ciao a tutti ciao ciao a tutti sì come anticipava margherita oggi parleremo di plastica e faremo un po' una panoramica su perché questo materiale è così fondamentale per la vita del genere umano al giorno d'oggi e al tempo stesso però è un così grande problema prima di tutto però prima che mi fate voi la domanda comincerei con un po' di definizioni quando si parla di plastica si parla di polimeri polimeri è una parola che deriva dal greco e significa composta da molte parti perché le materie plastiche a livello chimico vengono definite appunto come polimeri cioè macromolecole composte da tante unità che si ripetono come margherita ci potrà confermare i polimeri si sono anche in natura abbiamo esempi di polimeri nel dna nelle proteine nei polisaccaridi quelli della plastica però sono polimeri sia derivati da macromolecole naturali sia di origine completamente sintetica posso confermare grazie mark confermo anch'io anche se non ne ho alcuna autorità direi di partire adesso con un brevissimo ma proprio brevissimo escursus sulla storia della plastica a differenza di quello che si può pensare la plastica ha una storia in realtà abbastanza antica le prime plastiche furono sintetizzate nel corso dell'ottocento in particolare la prima in assoluto fu la celluloide che venne al mondo come nitrato di cellulosa e venne impiegato pensate un po come soluzione per un materiale innovativo per le palle da biliardo perché all'epoca si utilizzava l'avorio che era molto costoso e bisognava rimpiazzarlo con qualcosa di più economico costoso anche in termini di elefanti giusto non credo che nell'ottocento si ponessero il problema dell'estinzione degli elefanti però penso si può essere il problema proprio del fatto che l'avorio sia di per sé un materiale costoso e raffinato a questo tipo di celluloide però che di per sé era chimicamente un po instabile e tendeva a degradarsi subentrò l'acetato di cellulosa che poi è diventato famosa per le pellicole cinematografiche lo sviluppo grande della plastica però si ebbe ovviamente nel corso del novecento nel 1910 arrivò la bachelite ovvero la resina fenolo formaldeide che prende il nome dal belga dal signore belga che l'ha sintetizzata tale bacheland nel 1912 arriva un carissimo amico ancora oggi molto molto frequente che è il polivinil cloruro il pvc a cui seguirono a ruota nel 1913 il cellofan che tutti conosciamo per le pellicole per gli imballaggi nel 35 è la volta del nylon ovvero delle fibre sintetiche in poliammide e quindi con questo abbiamo l'ascesa a livello mondiale della plastica impiegata anche nell'industria tessile quindi dalle calze per le donne fino ai paracaduti per la seconda guerra mondiale nel 41 è la volta di un altro nostro famoso tristemente famoso al giorno d'oggi amico il polietinene tereftalato pet che all'inizio venne impiegato al solo come fibra tessile nei tessuti di pile dal 73 iniziò a proliferare sotto forma di bottiglie di plastica che oggi ci danno tanti tanti problemi negli anni 50 poi arriva un evergreen la formica e scommetto che tutti voi sapete che cos'è perché nella casa dei nostri nonni sicuramente c'erano quei bei mobili verdolini con quella strato verdolino che era proprio formica una resina di melammina e formaldeide e che è diventato un po il simbolo del boom economico degli anni 60 perché appunto è stato proprio è stata proprio la plastica che entrava nella nelle case degli italiani rendendo la produzione dei mobili anche molto meno costosa quindi è stato anche quello no immagino anche perché la formica poi è stata utile anche in campo produzione dei mobili perché era molto più facile utilizzarla per creare mobili di design grazie dell'intervento artistico francesco e quindi appunto grande diffusione della plastica nelle case di tutti gli italiani nel 54 l'italia diventa nuovamente protagonista nell'ambito della plastica con un nostro celebre e importante connazionale giulio natta che riuscì a catalizzare la sintesi del polipropilene isotattico permettendo anche a questo materiale di essere immesso nel mercato e di essere prodotto a livello industriale grazie a questo l'italia diventa uno dei leader mondiali nella produzione della plastica e nel 1957 la monte catini inizia a produrre questo polipropilene con il nome commerciale di moplen che divenne famoso anche tramite le sigle le pubblicità le marchette sul carosello in quegli anni grazie a questa scoperta giulio natta vinse insieme a carl ziekler che tedesco che aveva fatto studi invece sul polietilene il premio nobel per la chimica e questo è importante perché questo qui è stato l'unico premio nobel per la chimica italiana e quindi dobbiamo esserne fieri dagli anni 60 in poi la plastica ha letteralmente invaso il mondo perché gli utilizzi della plastica sono sempre stati più diffusi più capillari ormai si trovano come sappiamo in ogni singolo aspetto della nostra vita posso anche aggiungere che dalla scoperta della plastica si sono fatti passi da gigante anche nel campo medico come le siringhe che possono essere utilizzate soltanto una volta quindi le siringhe monouso rispetto a quelle che venivano utilizzate precedentemente che dovevano essere sterilizzate ad ogni uso e la sterilizzazione spesso non poteva avvenire in modo corretto e quindi questo poteva causare lo sviluppo e la contaminazione durante l'uso poi lorenzo volevo chiederti un'altra cosa vedo sempre che la plastica viene associata anche al petrolio perché ottima osservazione marghe effettivamente la plastica deriva dal petrolio come abbiamo visto le primissime plastiche derivavano da biopolimeri la celluloida e per esempio viene veniva derivava dalla cellulosa successivamente nel tempo si è arrivata a sfruttare le materie prime derivanti dal cracking del petrolio per produrre plastica in questo modo al giorno d'oggi si è arrivato al si è arrivati alla situazione in cui praticamente il 100 per cento della plastica che viene prodotta deriva dal petrolio proprio perché la plastica si è cominciato a reperirla dal petrolio è stato sempre più semplice poi arrivare a produrre materiale plastica in grande quantità di pari passo alla maggior capacità di reperimento del petrolio a fianco a questo processo si sono man mano sviluppate anche le varie tipologie di sintesi dei materiali plastici che hanno portato poi a permettere di sviluppare la plastica in tantissime forme che sono state capaci di riempire sempre di più la vita e ogni aspetto della vita quotidiana grazie a questo le materie plastiche sono state sempre più una soluzione a basso costo e alla portata di tutti basti pensare ad alcuni esempi di quello che sono gli utilizzi della plastica nella vita quotidiana per esempio il polipropilene viene utilizzato per le tubazioni il polistirene che viene anche chiamato comunemente polistirolo viene utilizzato per gli imballaggi come abbiamo già detto il PET politilene tereftalato viene utilizzato per le bottiglie e poi ci sono utilizzati per la plastica che secondo me sono assolutamente nobili come quello della crilonitrile butadiene stirene che è il materiale di base per la costruzione delle lego quindi assolutamente nobile direi negli anni poi la scienza e la chimica hanno consentito di arrivare a materie plastiche dalle caratteristiche sempre più eccezionali e si è arrivata per esempio alla produzione di materiali come il politetrafluoro etilene il ptfe che viene comunemente conosciuto come teflon che è in grado di resistere a condizioni di elevatissima temperatura di elevata acidità o elevata alcalinità oppure a altre soluzioni come quelle dei policarbonati che vengono utilizzati per esempio per i caschi automobilistici o ancor di più alle aramidi il cui esempio principale è il kevlar che viene utilizzato nei giubbotti antiproiettili e che è 5 volte più resistente dell'acciaio a parità di massa però ricordiamo che il picco rimane il lego quella è stata proprio l'apice della della storia della sintesi della plastica si andrea che sarà purtroppo insuperabile tutta questa carrellata di varietà e di utilizzi ci porta a considerare un po di numeri ad oggi nell'unione europea circa 1,6 milioni di persone lavorano nel settore della plastica per un volume di affari di circa 350 miliardi di euro l'anno che porta questo settore al settimo posto dell'industria europea a pari merito con l'industria farmaceutica circa 60 milioni di tonnellate di plastica vengono prodotte ogni anno in europa anche se il trend produttivo è in leggera diminuzione e di queste 60 milioni di tonnellate bisogna considerare che solo circa 10 milioni di tonnellate vengono effettivamente riciclate quindi tutto il resto viene prima o poi destinato alla discarica ma del riciclaggio ne parliamo dopo giusto sì andrea poi affronteremo anche il tema del riciclaggio a livello globale vengono prodotte ogni anno circa 370 milioni di tonnellate di plastica e ovviamente se proviamo a tirare a indovinare il primo paese produttore è la cina che produce da sola circa il 30 per cento del totale seguita dagli stati uniti al 20 per cento e dall'europa circa al 15 16 per cento il dato bellissimo da considerare è che il 40 per cento di tutta questa plastica che viene prodotta annualmente sono imballaggi e quindi per natura stessa vengono utilizzati una volta e poi vanno a smaltimento e quindi ovviamente il problema non è da poco quindi posso immaginare quanto durante la pandemia per esempio sia aumentato il numero di imballaggi mi viene in mente tutti gli imballaggi utilizzati da Corriere Amazon che anche per piccole cose che devono essere spedite magari da paesi esteri utilizzano grandi quantità di plastica. Sì non solo basti pensare adesso anche a tutte le mascherine che vengono prodotte quelle comunque sono per la gran parte in fibre sintetiche quindi vengono prodotte per il singolo utilizzo spesso di poche ore e poi necessariamente devono essere buttate tra l'altro le mascherine vanno buttate anche nell'indifferenziato quindi per loro natura non prevedono neanche la possibilità di riciclaggio quindi questo è un problema che purtroppo legato al grandissimo problema della pandemia si viene ad aggiungere e quindi proprio in questi enormi numeri risiedono i limiti della plastica perché come abbiamo detto è un prodotto a basso costo che quindi offre la possibilità di un consumo smodato che entra nelle vite in maniera capillare e quindi alla produzione di tonnellate e tonnellate di rifiuti che poi solo in parte vedono un corretto smaltimento ma nella maggior parte dei casi vedono un cattivo smaltimento con la conseguenza quindi che ci ritroviamo letteralmente sommersi dalla plastica e quindi arriviamo a quello che è uno dei grandissimi problemi dell'attualità l'inquinamento portato dalla plastica abbiamo visto e sentiamo al tg che le materie plastiche sono state ritrovate ovunque dalla vetta alle vette dell'himalaya fino al fondale oceanico più profondo il problema serio è il fatto che ogni materiale plastico impiega tantissimi anni per essere degradato dall'ambiente quindi per arrivare a non impattare più sull'ambiente basti pensare che una semplice busta di plastica impiega fino a 20 anni per degradarsi completamente e si arriva ad esempio alle cannucce che impiegano 200 anni alle bottiglie ai bicchieri che arrivano ai 450 500 anni così come i pannolini gli spazzolini da denti che comunque hanno delle tempistiche di smaltimento di secoli e quindi ovviamente questo porta a un accumulo adesso sempre maggiore di plastica nel ecosistema aspetta un attimo però perché una cosa che mi sono sempre chiesto e probabilmente è colpa mia perché è una di quelle cose che ti dicono anche alle elementari ma io alle elementari mi distraevo un sacco è come facciamo a sapere esattamente che o comunque sia anche in modo vago che per smaltire un certo tipo di plastiche occorrono secoli cioè tu prima hai detto che usiamo la plastica da un paio di secoli come facciamo a sapere che per alcune plastiche ci vogliono anche 3 4 5 secoli affinché queste si degradino la domanda non è così banale perché effettivamente per arrivare a definire un tempo di deterioramento di 500 anni ovviamente è un po un'assurdità questi tempi sono stati definiti ovviamente in ottica sperimentale diciamo quindi ci si è basati su degli esperimenti fatti in laboratorio e delle analisi fatte effettivamente sulle plastiche ritrovate in ambiente che si basano su diversi fattori innanzitutto si va a vedere quale so qual è la capacità dei batteri che si trovano in un determinato ecosistema di aggredire le plastiche e di deteriorarle ovviamente bisogna considerare anche quello che è il tipo di plastica perché ci sono delle plastiche che presentano delle funzionalità chimiche che i batteri riescono ad attaccare più facilmente e ci sono invece delle plastiche che risultano praticamente inattaccabili bisogna poi considerare quelle che sono le condizioni tra virgolette ambientali dell'ambiente stesso le condizioni atmosferiche quindi bisogna andare ad analizzare tutti quei fenomeni atmosferici ambientali che possono direttamente incidere sulla degradazione della plastica quindi anche qual è l'ambiente in cui la plastica si viene a trovare per esempio la plastica che finisce in mare subirà gli effetti di quella che è la salinità dell'acqua l'alcalinità dell'acqua oppure anche semplicemente gli effetti meccanici delle onde che fanno avanti e dietro e quindi piano piano la degradano terzo fattore per esempio è la risposta che la plastica ha alla radiazione luminosa quindi alla luce del sole che arriva e colpisce la plastica i raggi ultravioletti che il sole manda sulla terra sono un ottimo fattore di degradazione per la plastica però c'è da dire che ovviamente l'uomo ha bisogno di utilizzare la plastica e quindi spesso utilizza all'interno della plastica delle sostanze che sfavoriscano la degradazione data dai raggi ultravioletti quindi il problema permane perché quella che potrebbe essere una soluzione alla fine non lo è fatte queste premesse per arrivare a definire come e in quanto tempo la plastica si va a degradare vengono fatte semplicemente degli esperimenti in laboratorio quindi in laboratorio si vanno a riprodurre quelli che possono essere le condizioni di un determinato ecosistema come per esempio l'ecosistema marino in cui si va a vedere prima quale può essere il range di temperatura perché ovviamente una plastica in un oceano artico subirà dei processi diversi dalla plastica che si trova in un oceano equatoriale oppure le condizioni di profondità una plastica che si viene a depositare sul fondo della fossa delle marianne subirà una pressione differente rispetto a quella che si trova più in superficie e quindi tenendo in considerazione questi fattori si va a vedere si vanno a misurare quelle che sono effettivamente le tempistiche che la plastica impiega a degradarsi come si fa fisicamente bisogna considerare quello che viene definito tempo di dimezzamento ovvero si va a vedere in una cosiddetta popolazione di plastica in un determinato ambiente riprodotto in laboratorio quanto questa ci mette a dimezzare la propria concentrazione quindi si misura con metodiche di laboratorio il tempo in cui appunto la concentrazione di plastica piano piano diminuisce e quindi in base a questo si possono poi fare ovviamente delle stime riportare queste tempistiche a delle stime che ti portano alle misure dei secoli che abbiamo detto prima sono abbastanza sicuro che quello che ci hanno insegnato all'elementare non era così complicato quindi ho fatto bene a distrarmi forse basandomi anche su quello che hai detto poco fa mi viene da pensare che effettivamente non abbiamo ancora smaltito ad esempio il primo spazzolino di plastica che sia mai stato prodotto perché se ci vogliono 500 anni direi che siamo ben lontani da quella data insomma considerando che ogni anno vengono prodotti miliardi di spazzolini da denti il problema direi che è un po' serio come ho accennato abbiamo visto che anche se la plastica permane per tanti tanti anni nell'ambiente comunque l'ambiente degli effetti sulla plastica li ha e questi effetti molto semplicemente sono ad esempio la riduzione del volume e della massa delle particelle di plastica che si vengono a trovare in ambiente e qui arriviamo a quello che ormai è noto a tutti quanti il grande problema legato alle microplastiche le microplastiche sono quelle plastiche che piano piano vengono sminuzzate 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 fino ad arrivare ad avere una una grandezza inferiore al millimetro quindi a stare all'ordine nell'ordine dei micron queste microplastiche ovviamente sono un grande problema perché particelle di sezione così infinitesimale si possono facilmente andare a depositare e a ritrovare ovunque appunto come abbiamo già detto sono state trovate sia sulla vetta dell'Himalaya sia nei fondali oceanici quello legato al mare è un problema ancora più grande perché in un certo senso il mare è il termine della firiera produttiva di tutte le attività umane e quindi tutto quello che facciamo in un certo senso finisce in mare e la plastica non fa differenza i dati di greenpeace italia ci dicono che ogni minuto viene sversato in mare circa un camion di plastica e ad oggi negli oceani si vengono a ritrovare decine di migliaia di tonnellate di materiale plastico soprattutto in forma di microplastiche che vanno direttamente a mettere a rischio si è stimato circa 700 specie animali questo fenomeno viene ritrovato in particolar modo in determinate zone oceaniche che vengono definite great pacific o atlantic garbage patch andrea mi dirà se la pronuncia è corretta andrea ride quindi mi sa di no tutto quello che dice è corretto lorenzo grazie grazie si tratta di immense distese oceaniche che vengono interessate dal fenomeno dell'accumulo di materie plastiche ad opera delle correnti oceaniche si stima che nell'oceano pacifico l'area interessata da questi accumuli sia di circa 1,6 milioni di chilometri quadrati che praticamente è la superficie dell'iran ma queste sono le tanto famose isole di plastica che vediamo spesso al telegiornale proprio quelle anche se in realtà la definizione di isole non è corretta perché uno immagina l'isola immagina qualcosa di definito che ha dei contorni ben definiti in realtà qui stiamo parlando di zone in cui la concentrazione di plastica in realtà è bassa si parla di un quantitativo che va dai 10 ai 100 chilogrammi di plastica per chilometro quadrato quindi in realtà non sono vere e proprie isole ma sono proprio delle enormi dispersioni che sono anche difficilmente individuabili per esempio dai satelliti o anche semplicemente transitandoci in mezzo con una nave non si vedono quindi il problema è anche quello che è difficile individuarle e quindi è difficile poi andarle a recuperare sono delle chiazze invisibili insomma in un certo senso praticamente sì delle chiazze ninja andrea ma se sono così difficili da individuare allora come le possiamo recuperare in realtà il fatto che ci siano queste correnti che tendono ad ammassare le plastiche in determinate zone dell'oceano è di per sé un vantaggio perché già sappiamo dove andarle in un certo senso a cercare ci sono numerosi progetti sia di ricerca ma sia anche proprio a finalità ecologiche che vanno a recuperare effettivamente con diversi sistemi le plastiche che si che si trovano in queste in queste zone il problema arriva fondamentalmente da quelle che sono le microplastiche perché essendo plastiche così piccole e così finemente disperse è proprio difficile andarle a recuperare quindi bisogna effettivamente studiare dei sistemi efficaci in grado di andare a trovare queste microplastiche e trattenerle ovviamente il problema è così marcato che in alcune zone di queste enormi aree oceaniche la concentrazione di plastica supera di sette volte quella dello zooplankton e si stima che con quello che è il trend attuale si continua appunto questo trend nel 2050 negli oceani ci sarà più plastica che pesci questo fenomeno di queste enormi aree di oceano inquinato va a danneggiare tantissime specie di pesci di uccelli e quant'altro però in particolare la più sfigata è l'albatross di lysan perché vede le sue zone di nidificazione coincidere proprio con queste aree oceaniche e quindi ogni anno tantissimi esemplari di questa specie stanno scomparendo e soprattutto stanno scomparendo i cuccioli di questa specie quindi questa sarà probabilmente la prima specie marina che andrà a distinguersi se il trend continua ad essere questo sulla terraferma c'è una specie animale che si trova ad essere in grandissima difficoltà a causa della plastica soprattutto perché è la specie che più entra in contatto con la plastica e lascio a voi indovinare quale sia però lasceremo agli ascoltatori il piacere di indovinare questa risposta noi glielo lasciamo invece lo anticipo io siamo proprio noi esseri umani che entriamo più in contatto con la plastica e che più dalla plastica rischiamo di avere problemi perché ci sono studi che dimostrano che la plastica incide in maniera negativa sotto tanti aspetti della nostra vita e posso aggiungere anche che da un recente studio sono state trovate microplastiche anche nella placenta umana quello che i ricercatori hanno fatto è quello di identificare mediante studi di spettroscopia dei pigmenti ritrovati all'interno del tessuto della placenta e dallo studio di questi pigmenti si è risaliti poi all'uso a cui venivano destinati quindi per esempio prodotti di igiene personale oppure di pittura agenti che vengono utilizzati per per la produzione delle colle e altri prodotti cosmetici e quindi questo aiuta a considerare la gravità del problema e la necessità assoluta di trovare delle soluzioni efficaci nel più breve tempo possibile una delle possibili soluzioni che si stanno portando in questi anni è quello dell'utilizzo di bioplastiche secondo la normativa europea per essere considerata bioplastica una plastica deve riuscire a decomporsi al 90 per cento entro sei mesi dal suo rilascio nella terra o nell'acqua questa però è una soluzione che vede di per sé alcuni limiti perché è vero che alcune plastiche soprattutto quelle per gli imballaggi hanno bisogno di essere smaltite in breve tempo però ci sono plastiche che per loro natura hanno bisogno di permanere di resistere perché sono necessarie per soluzioni tecniche che richiedono una certa durata e quindi per queste ovviamente questa soluzione non è applicabile un'altra soluzione che potrebbe affrontare il problema in maniera un po più ampia è quella dei batteri cosiddetti plasticofagi cioè ovvero quelle quei batteri che sono in grado di attaccare selettivamente la plastica e di degradarla questa è una soluzione però che per adesso non trova ancora grandissimo impiego a livello industriale è una soluzione che si sta ancora studiando e quindi forse ancora un po lontana dall'essere applicabile su larga scala anche se ovviamente potrebbe essere effettivamente solutiva però queste sono tutte soluzioni diciamo dal punto di vista chimico esiste anche uno sforzo politico culturale al fine di produrre meno plastica liberarci un po di questo problema anche a livello legislativo e amministrativo sono state avanzate delle proposte per cercare di risolvere questo importante problema un esempio lampante è quello della plastic tax che era stata proposta qualche anno fa che però forse a a livello risolutivo è una misura un po troppo drastica perché va a danneggiare da un giorno all'altro un intero settore porta a dei problemi delle ripercussioni economiche che forse portano più conseguenze negative piuttosto che positive a me è capitato di parlare con chi lavorava effettivamente nel settore della plastica nel periodo in cui si sentiva parlare di questa misura della plastic tax e questi avevano le mani nei capelli perché dicevano è vero la plastica deve avere dei sistemi di smaltimento di riutilizzo efficaci bisogna arrivare a studiare queste cose però è anche vero che la plastica è capillare nella vita quotidiana che viene utilizzata per qualunque cosa e quindi andarla a tassare in massa porta ovviamente soltanto dei danni economici molto molto seri e importanti quindi forse queste soluzioni devono arrivare in un secondo momento quando già ci sono delle alternative alla plastica o comunque delle alternative che permettano di eliminare la plastica in maniera efficace a quel punto tu metti dei disincentivi per togliere la plastica di mezzo anche perché la problematica potrebbe essere quella che aumentano poi i prezzi delle materie finite e quindi noi consumatori poi potremmo anche insomma essere colpiti da questa tassa sì una tassa del genere andrebbe a colpire sia i produttori sia ovviamente i consumatori in maniera incondizionata e quindi poi ripeto probabilmente gli svantaggi diretti sarebbero molto più grandi rispetto a quelli che potrebbero essere i vantaggi perché le imprese non avrebbero effettivamente il tempo fisico per riorganizzarsi per fare in modo di sopperire all'immissione smisurata di plastica nel mercato ok però dal punto di vista nostro diciamo delle della gente comune la soluzione migliore il comportamento migliore rimane quello di dedicarsi al riciclaggio in qualche modo di stare attenti al riciclaggio quella è assolutamente probabilmente ad oggi la soluzione più efficace che abbiamo quindi l'arma più efficace che abbiamo per combattere questo problema e in un certo senso si sta già attuando questa politica del riciclaggio sia a livello governativo sia anche a livello dei singoli cittadini basti pensare che l'esportazione di rifiuti plastici dall'unione europea all'estero è scesa del 39 per cento tra il 2016 e il 2018 quindi questo vuol dire che c'è stata una netta riconversione dell'esportazione in discariche estere verso il riciclaggio e addirittura dal 2006 al 2019 il riciclaggio è aumentato del 100 per cento quindi si ricicla il doppio rispetto a 15 a 15 anni fa il problema è che ad oggi ancora un quarto di tutta la plastica che viene utilizzata finisce direttamente in discarica quindi ovviamente questi numeri non sono sufficienti bisogna impegnarsi maggiormente da persona comune però mi chiedo come funziona la filiera del riciclaggio ottima domanda perché effettivamente magari uno è attento ricicla ma non si pone il problema di andare a vedere effettivamente quello che succede poi al prodotto una volta che viene smaltito ovviamente la prima la prima parte della filiera del riciclaggio è la raccolta dei prodotti plastici che poi vengono separati perché ovviamente ogni tipologia di plastica ha bisogno di operazioni o meccaniche o chimiche differenti quindi c'è questa separazione che può essere operata o attraverso detector che utilizzano una diffrazione di radiazione luminosa oppure attraverso sistemi idraulici che si basano semplicemente sulla diversa densità delle varie materie plastiche dopo questa separazione c'è un pricomo immagazzinamento per poi destinare questi prodotti separati a una triturazione dopo la triturazione segue ovviamente un lavaggio una fase di lavaggio perché ovviamente la plastica deve andare a lavorazione pulita e a questo segue un immagazzinamento un secondo immagazzinamento che destina le singole tipologie di plastica all'estrusione ovvero a quel processo meccanico che permette di convertire queste le forme diciamo grezze della plastica triturate della plastica in forme più utili utili alla lavorazione meccanica questo processo ovviamente presenta però dei limiti perché ad oggi ci sono dei materiali plastici il cui riciclaggio è più costoso rispetto alla produzione ex novo quindi per quei materiali adesso non conviene riciclaggio conviene semplicemente produrne di nuovo e poi un altro limite grosso è quello del numero di volte che una materia plastica si può riciclare perché ci sono dei materiali che effettivamente possono essere riciclati un buon numero di volte ma ci sono altri materiali come ad esempio il polipropilene che possono essere possono affrontare soltanto tre o quattro cicli di riciclaggio ma poi vanno necessariamente a diverso smaltimento perché appunto perdono le loro caratteristiche chimico fisiche e quindi la possibilità di essere impiegate nell'industria e ovviamente oltre al riciclaggio la prima e più importante soluzione più immediata soluzione è quella della riduzione dell'utilizzo quindi sta a ciascuno di noi cercare di evitare la plastica quindi se si può evitare di andare a comprare prodotti eccessivamente imballati per esempio che presentano delle confezioni eccessivamente elaborate è meglio così come come diceva all'inizio margherita per esempio magari evitare di fare acquisti di continuo attraverso amazon per esempio perché quello necessariamente ti porta a un packaging eccessivo quindi piccole accortezze nella vita quotidiana che possono portare a una riduzione del consumo di plastica e che quindi può essere affrontata meglio poi dal riciclaggio e quindi può portare direttamente a un minore problema di accumulo di rifiuti nell'ambiente ok anche se da quanto so amazon ha già pensato a delle alternative per ridurre l'utilizzo della plastica per esempio ultimamente sta utilizzando maggiormente imballaggi fatti di carta anche carta riciclata quello che proponevo prima può essere un consiglio cioè quello di ordinare online un certo numero di articoli magari in una sola una sola volta in modo da ridurre il numero di spedizioni e quindi le conseguenti pacchi sì sì mi scuso con jeff bezos per la mia imprecisione io intendevo proprio questo intendevo proprio il fatto che andando a ridurre il numero di il consumo della plastica poi ovviamente si va a migliorare la situazione a livello di smaltimento e di produzione di rifiuti per fortuna che ci siamo corretti perché avevo già visto degli avvocati con arrivare con dei droni con dei droni con scritto sopra amazon prime stavano puntando verso di noi quindi bravi che ci siamo corretti appena in tempo se ne stanno andando li vedo ma in realtà vediamo questo tipo di scelte ecologiche anche in altre aziende molte stanno cercando di ridurre l'utilizzo della plastica in realtà sta cambiando anche il modo in cui viene proposta la plastica se fino a qualche tempo fa era normale o anche auspicabile trovare un prodotto fatto di plastica adesso è quasi l'alternativa economica un altro prodotto vediamo per esempio nella tecnologia un computer con la scocca fatta in metallo costa più di un computer fatto in plastica e quindi vediamo la plastica come alternativa economica in questo senso beh sì magari in passato era esattamente l'opposto proprio perché magari la plastica è un materiale più resistente quando appunto oggi invece anche per motivi di marketing si è fatta questa scelta sì questo funziona assolutamente in quei settori in cui si può giocare un po' sul prezzo il problema per la plastica entra a gamba tesa in quei settori in cui è irrinunciabile sia per le sue proprietà chimico fisiche sia soprattutto per il prezzo perché ci sono determinate settori soprattutto dell'industria in cui l'utilizzo della plastica ti permette di essere competitivo e quindi di rimanere sul mercato è in quei momenti che bisogna veramente entrare a ragionare su come o sostituire la plastica oppure semplicemente smaltire la plastica una volta che ha finito il suo ciclo vitale quindi diciamo la situazione va vista in un'ottica molto ampia perché la plastica ricopre ogni aspetto dell'esistenza la troviamo ovunque dai nostri vestiti agli utensili che utilizziamo qualunque aspetto della nostra vita è circondato dalla plastica e quindi effettivamente c'è bisogno di una panoramica veramente veramente larga per cercare di risolvere il problema quindi possiamo concludere dicendo che adesso una soluzione vera e propria non c'è bisogna aspettare che voi chimici la create però noi nel nostro piccolo nel quotidiano possiamo cominciare quantomeno a rallentare questa problematica sì effettivamente noi abbiamo creato il problema e è giusto che siamo noi poi a cercare di risolverlo quindi abbiate fiducia nella chimica anche perché sicuramente non lo faremo noi linguisti va bene quindi la problematica sulla plastica mi sembra che l'abbiamo esposto in maniera piuttosto chiara posso dire conclusa questa puntata del nostro podcast e vi ricordiamo che potrete trovare degli approfondimenti nelle note oltre a tutti i link per raggiungerci sui social network e per ascoltarci nelle varie piattaforme tra l'altro da adesso da questa puntata inizieremo a pubblicare anche su youtube quindi se volete potete seguirci anche lì alla prossima chiacchierata grazie a tutti ciao ciao ciao